In cammino, Chekhov. Riposava, la nuvola dorata, sul petto dello scoglio gigantesco. Lermontov. Nella sala che lo stesso padrone dell'osteria, il cosacco Semyon Sistopliu, chiamava passeggera, cioè destinata esclusivamente alla gente di passaggio, era seduto a una gran tavola non verniciata a un uomo alto, largo di spalle e sui quarant'anni. Posati i gomiti sulla tavola e puntellata la testa col pugno, egli dormiva. Un moccolo di candela di sego, ficcato in un vasetto vuoto di pomata, riscarava la sua barba rossiccia, il grosso naso largo, le guance bronzate, defolte, nera sopracciglia, spioventi sugli occhi chiusi. I naso, i guance e sopracciglia, tutti i lineamenti presi uno per uno, erano grossolani e pesanti, come i mobili e la stufa della passeggera, ma nell'insieme davano un chiede armonioso e perfino di bello. Tale è già come si dice il pianeta del volto russo. Quanto più sono grossi e accentuati i suoi tratti, tanto più è sopardolce e bonario. L'uomo aveva indosso una giacca signorile logora, ma guarnita di fettuccia nuova, larga, con panciotto di felpa e ampi calzoni neri, cacciati nei grandi stivali. Su una delle panche, che correvano ininterrotte lungo la parete, dormiva, sopra una pelliccia di volpe, una bambina sugli otto anni, in un vestitino di color cannella e lunghe calze nere. Il suo volto era pallido, i capelli biondi, le spalle strette, tutto il corpo magro ed esile, ma il naso sporgeva come un grosso e bruttolo bernoccolo, al pari di quello dell'uomo. Ella dormiva sodo e non sentiva che il pettine non semicircolare, scivolatele di capo, le segava la guancia. La passeggera aveva un aspetto festivo, l'aria odorava di pavimenti lavati di fresco, sulla funicella, che si stendeva diagonalmente per tutta la stanza, non erano appesi, come sempre, degli strazzi, e in un canto, al di sopra di una tavola, ponendo una chiazza rossa sull'immagine di San Giorgio Vittorioso, ardeva un lumicino. Osservando la più severa circospetta gradualità nel passaggio dal divino al profano, si allungava dall'immagine, ai due lati dell'angolo, una fila di incisioni popolari. Alla fioca luce del moccolo e del lumino rosso, le incisioni si presentavano come una sola striscia continua, coperta di sgorbi neri. Quando poi la stufa di maiolica, desiderando cantare all'unisono col tempo, aspirava in sé l'aria con un ululo, e i ciocchi, come riscotendosi, avvampavano con vivida fiammata e brontolavano i rosi, Allora, sulle pareti di travi, cominciavano a saltellare delle macchie vermiglie, e si poteva vedere, come sopra la testa dell'uomo dormente, si ergevano, ora il vecchio monaco Serafini, ora lo Shah Nasreddin, ora un grasso pargolo di color cannella, che sgranava gli occhi e vi sbigliava qualcosa, all'orecchio di una fanciulla, dal viso insolitamente ottuso e indifferente. Fuori rumoreggiava il maltempo. Un chiedi rabbioso e di cattivo, ma profondamente infelice, si avventava col furor d'una belva intorno all'osteria, e cercava di rompere nell'interno. Sbattendo le porte, picchiando alle finestre e sul tetto, sgraffiando le pareti, ora minacciava, ora supplicava, e ora si chietava per breve tempo, e poi, con gioioso proditorio urlo, si precipitava nella canna della stufa. Ma qui, i ciocchi avvampavano, e il fuoco, come un cane alla catena, si slanciava con rabbia incontro al nemico. Cominciava una lotta, e poi erano singhiozzi, strilli, ruggiti di collera. In tutto ciò, si sentivano, e l'angoscia era conda, e l'odio inappagato, e l'offesa impotenza di chi era stato un tempo avvezzo alle vittorie. Affascinata da questa selvaggia, inumana musica, la passezzera pareva intormentita per sempre, ma ecco che l'uscio cigolò, ed entrò nella stanza un gargionzello della trattoria, in camicia nuova di calicò. Zoppicando da un piede, e battendo gli occhi assonnati, egli smoccolò la candela con le dita, aggiunse nella stufa dei ciocchi, ed uscì. Subito dopo, alla chiesa, che a Rogasi si trova a trecento passi dall'osteria, prezzero a suonarla mezzanotte. Il vento giocava coi rintocchi come con falde di neve. Rincorrendo i suoni della campana, li faceva turbinare in un immenso spazio. Sicché, dei rintocchi, gli uni si interrompevano, si distendevano in un lungo suono ondeggiante, e altri si perdevano del tutto, in mezzo al generale frastuono. Un rintocco vibrò così distintamente nella sala, come se avessero scampanato proprio sotto le finestre. La bambina, che dormiva sulla pelliccia di volpe, sussultò e sollevò il capo. Per un minuto guardò senza espressione la finestra buia in Asreddin, sul quale in quel momento scivolava la luce porpolina che veniva dalla stufa. Quindi portò lo sguardo sull'uomo addormentato. Ma l'uomo non si muoveva. La bambina contrasse le sopracciglia stizose, si rimise giù e ripiegò le gambe. Dietro l'uscio, nell'osteria, qualcuno fece un rumoroso e prolungato sbadiglio. Poco dopo si udì stridere la puleggia degia della porta e giunsero voci confuse. Qualcuno entrò, descrollandosi di dosso la neve e si mise a pestar sordamente con gli stivali di feltro. «Che cosa?» domandò pigramente una voce femminile. «La signorina Ilovalski è arrivata!» rispose una voce di basso. Tornò a stridere la puleggia della porta. Si sentì il rumore del vento che aveva fatto irruzione. Qualcuno, probabilmente il ragazzo zoppo, corse verso l'uscio che metteva nella passeggera. Tossì rispettosamente e tirò il paletto. «Di qua, Matryoshka, signorina, favorite!» disse una voce di canto femminile. «Qui da noi è pulito, bella!» Lucia si spalancò e sulla soglia comparve un campagnolo barbuto, incaffettano da cocchiere con una grossa valigia sulla spalla, tutto rivestito dalla testa ai piedi di neve. Dietro di lui entrò una figura femminile poco alta, quasi due volte più bassa del cocchiere, senza volto e senza braccia, avviruppata e imbaccuccata, simile a un fagotto e anch'essa coperta di neve. La cocchiere del fagotto ventò addosso alla fanciulletta un'aria umida, come da una cantina, e il lume della candela vacillò. «Che sciocchezze!» disse irritato il fagotto. «Si può viaggiare benissimo. Sono rimaste da fare solo dodici verste, la maggior parte per bosco, e non ci saremmo smarriti.» «Quanto a smarrirci, non ti saremmo smarriti.» «Ma i cavalli non avanzano, signorina!» rispose il cocchiere. «E, signore, sia la tua volontà. Pare che io l'abbia fatto apposta. Dio sa dove mai condotta, ma più piano. Qui, pare, si dorme. Vieni via di qua.» Il cocchiere depose sul pavimento la valigia, mentre dalle sue spalle si sparpagliavano strati di neve. Mandò col naso un suono che aveva del singulto e uscì. Dopo di ciò, la bambina vide come dal mezzo del fagotto sbucarono fuori due piccole manine. Si tesero in alto e cominciarono a distrigare, irritate e un groviglio di scialli, fazzoletti e sciarpe. Prima sul pavimento cadde un grosso scialle, poi un cappuccio, quindi un fazzoletto di maglia. Liberata la testa, la forestiera si tolse il mantello e di colpo si restrinse della metà. Ora poi aveva indosso un lungo cappotto grigio con grandi bottoni e con le tasche gonfie. Da una tasca tirò fuori un cartoccio di carta con qualche cosa, dall'altra un mazzo di grosse, pesanti chiavi che posò sbadatamente che l'uomo addormentato sussultò e aprì gli occhi. Per un po' di tempo egli guardò con aria ottusa di qua e di là, come se non capisse dov'era. Poi scosse il capo, andò in un angolo e sedette. La forestiera si lavò il cappotto, per il che tornò a ridursi della metà. Si cavò gli stivali di felpa e sedette anche lei. Ormai non somigliava più a un fagotto. Era una piccola bruna, magrolina sui vent'anni, sottile come una serpe, con un viso bianco, allungato e capelli riccioluti. Il naso aveva lungo, aguzzo, il mento pure lungo e aguzzo, le ciglia lunghe, gli angoli della bocca acuti e, grazie a tutti questi tatti aguzzi, l'espressione del volto pareva pungente. Stretta nel vestito nero, con una massa di trine sul collo e sulle maniche, coi gomiti appuntiti e i lunghi ditini rosei, il richiamava i ritratti delle dame inglesi del Medioevo. L'espressione seria, riconcentrata del volto, ancor più accresceva questa assomiglianza. La bruna guardò in giro la stanza, sbirciò l'uomo e la bambina e, strettasi nelle spalle, andò a sedere presso la finestra. Le finestre buie tremavano sotto l'umido vento acciduo. Grossi fiocchi di neve, sfavillando di candore, si posavano sui vetri, ma subito dopo sparivano, portati via dal vento. La musica selvaggia si faceva sempre più forte. Dopo un lungo silenzio, la bambina a un tratto si rigirò e disse, martellando con ira ogni parola, «Oh, signore, signore, come sono disgraziata! Più disgraziata di tutti!» L'uomo si levò in piedi e, con l'andatura di un colpevole che non si addiceva per nulla alla sua gigantesca statura e alla gran barba, andò a passettini verso la bambina. «Tu non dormi, amichetta?» domandò con voce di scusa. «Che vuoi?» «Non voglio nulla. Mi fa male la spalla. Tu, papà, sei un uomo cattivo e Dio ti castigherà. Vedrai che ti castigherà!» «Colombella mia, so che ti fa male la spalla, ma che ci posso fare io, amichetta?» disse l'uomo col tono dei mariti brilli che si scusano con le loro fedeli consorti. «È per il viaggio, Sascha, che ti fa male la spalla. Domani arriveremo a destino, si riposeremo e ti passerà. Domani, domani, tu ogni giorno mi dici domani. Viaggeremo ancora per venti giorni!» «No, amichetta, parola d'onore di padre. Arriveremo domani. Io non dico mai bugie. Se ci ha trattenuti la bufera, io non c'ho colpa. Io non posso reggere oltre. Non posso, non posso!» Sascha guizzò bruscamente col piede e fece risonare la stanza di uno sgradevole stridulo pianto. Suo padre fece un gesto con la mano e guardò smarrito la brunetta. Quella si strinse nelle spalle e si avvicinò irresoluta a Sascha. «Ascolta, cara», disse, «perché piangere? È brutto, in verità, che ti faccia male la spalla, ma che farci?» «Vedete, signorina», presa a dire in fretta l'uomo com'è giustificandosi. Per due notti non si è dormito e abbiamo viaggiato in un'orribile carrozza. Beh, certo, è naturale che lei sia indisposta e di cattivo umore. E per giunta, sapete, mi è capitato un vetturino ubriaco. Ci hanno rubato la valigia. Una bufera di neve continua. Ma, signora, a che piangere? D'altra parte, questo dormir da seduto mi ha spossato e io sono come ubriaco. Davvero, Sasha, qui anche senza di te si alluggia addosso e tu piangi anche. L'uomo tentennò il capo, agitò la mano e sedette. «Certamente non si deve piangere», disse la brunetta. «Solo i bimbi lattanti piangono. Se non stai bene, cara, bisogna spogliarsi e dormire. Lascia su che ti spogli». Quando la bambina fu svestita e calmata, di nuovo seguì un silenzio. La brunetta era seduta presso la finestra e perplessa guardava in giro la stanza dell'osteria, l'immagine, la stufa. A quanto pareva le sapevano di strano e la stanza e la bambina col suo grosso naso in una corta camicina infantile e il padre della fanciulletta. Questo strano uomo stava a sedere in un angolo, smarrito, come ebro, dettava occhiate dai lati e si passava la palma sul viso. Egli taceva, batteva gli occhi e guardando la svaria colpevole era difficile supporre che presto si mettesse a parlare. Ma a parlare per primo cominciò lui. Accarezzatisi i ginocchi dopo aver tossito, egli sorrise e disse «Una cosa buffa, davvero? Guardo e non credo ai miei occhi. Beh, dietro a che diavolo mai il destino ci ha cacciati in questa sudicia osteria. Che ha voluto dire con questo? La vita eseguisce a volte certi salti mortali che si può solo guardare e sbatter gli occhi, stupiti. Voi, signora, andate lontano? No, non lontano, rispose la brunetta. Vado dalla nostra proprietà che è una ventina di verste da qui, alla nostra fattoria, dal padre e dal fratello. Io ho nome Ilovaischi e la fattoria pure si chiama Ilovaischi, a dodici verste da qui. Che brutto tempo! C'è di peggio? Entrò il ragazzo zoppo e piantò nel vasetto di pomata un nuovo moccolo. Tu dovresti, giovanotto, prepararsi il samovar, si rivolse a lui l'uomo. Ma chi beve adesso il tè? sorrisse lo zoppo. È peccato bere prima della messa. Non fa niente, giovanotto, non tu brucerai all'inferno, ma noi! Bevendo il tè, i nuovi conoscenti si misero a discorrere. Ilovaischi apprese che il suo interlocutore si chiamava Grigori Petrovici Lichariov, che era fratello germano di quel tal Lichariov che in uno dei vicini distretti esercitava l'ufficio di capo della nobiltà ed egli stesso era stato una volta a possidente, ma in un tempo aveva dato a fondo a tutto. Lichariov, invece, apprese che Lairovaischi si chiamava Maria Mikhailovna, che la proprietà di suo padre era immensa e che toccava a lei sola amministrarla, perché il padre e il fratello prendevano la vita alla leggera, erano spensierati e troppo amavano i cani da corsa. Il padre e il fratello nella fattoria sono soli soletti, diceva Lairovaischi muovendo le dita. Ella aveva il vezzo discorrendo di muoverle le dita davanti al suo viso aguzio e dopo ogni frase leccarsi con la linguetta puntita le labbra. Loro, gli uomini, sono gente spensierata e per se stessi non muoveranno nemmeno un dito. Immagino chi darà loro di rompere il digiuno. La madre non l'abbiamo e la serviciu da noi è tale che, senza di me, neppure una tovaglia sa distendere a modo. Potete ora figurarvi la loro condizione. Non avranno di che rompere il digiuno e io tutta la notte devo star bene qui. Come tutto ciò è strano! Lairovaischi alzò le spalle, sorbì dalla tazza e disse Ci sono delle feste che hanno il loro profumo. Per la Pasqua, la Trinità e il Natale c'è nell'aria un qualche odore speciale. Perfino i miscredenti hanno care queste feste. Mio fratello, per esempio, sostiene che non c'è Dio e a Pasqua è il primo a correre al mattutino. I Ciarioschi alzò gli occhi su Lairovaischi e si mise a ridere. Sostengono che Dio non c'è, continuò Lairovaischi ridendo anche lei. Ma perché dunque, ditemi, tutti i famosi scrittori, gli scienziati, le persone intelligenti in genere, sul finir della vita credono? Chi, signorina, non ha saputo credere in gioventù, quello non crederà neppure in vecchiaia, fosse pure superarci il scrittore. A giudicare dalla tosse, Lairov aveva una voce di basso, ma probabilmente per timore di parlare forte o per superflua timidezza, parlava con voce tenorile. Dopo aver tacciuto un po', sospirò e disse io così l'intendo che la fede è una facoltà dello spirito, tal quale come l'ingegno. Con essa bisogna nascere. Per quanto io posso giudicare da me, dagli uomini che ho veduto in vita mia, da tutto ciò che avveniva all'intorno, questa capacità è propria dei russi in sommo grado. La vita russa costituisce una serie ininterrotta di fedi e di infervoramenti e l'incredulità o la negazione, se volete sapere, essa non l'ha ancora nemmeno allusata. Se il russo non crede in Dio, questo vuol dire che crede in qualche altra cosa. Vicarioff accettò dall'Ailovaschi una tazza di tè, ne sorbi di colpo la metà e continuò io vi dirò di me. Nella mia anima la natura pose una non comune capacità di credere. Per metà della vita fu iscritto, si ha detto facendogli scongiuri per la notte nel ruolo degli atei e dei nichilisti, ma non c'è stata nella mia vita neppure un'ora che io non abbia mai creduto. Tutte le attitudini si manifestano di solito nella prima infanzia, così anche la mia capacità dava già segno di sé quando io camminavo ancora sotto la tavola. A mia madre piaceva che i figli mangiassero molto e quando mi dava da mangiare diceva mangia l'essenziale nella vita è la minestra. io credevo, mangiavo quella minestra dieci volte al giorno, mangiavo come un pesce cane fino alla nausea e al deliquio. La bambinaia raccontava le fiabe e io credevo negli spiritelli domestici, negli orchi, in ogni sorta di diavolerie. a volte rubavo a mio padre il sublimato corrosivo, ne cospargevo i panforti e li portavo in solaio perché, vedete un po', i spiritelli li mangiassero e crepassero tutti e quando ebbe imparato a leggere e a capire quel che leggevo allora non la finì più e scappavo in America e me ne andavo fra i briganti e chiedevo di entrare in convento e impegnavo dei monelli perché mi torturassero come Cristo e notate la fede in me era sempre attiva non inerte se scappavo in America non ero solo ma trascinavo con me qualcun altro un qualche sciocco mio pari ed ero contento quando gelavo oltre barriera e quando mi bastonavano se andavo fra i briganti tornavo senza fallo col muso rotto un'infanzia irrequietissima vi assicuro e quando mi misero al ginnasio e là mi colmarono ad ogni sorta di verità per genere di quella che la terra gira intorno al sole o che la luce bianca non è bianca ma si compone dei sette colori sì che prese a girare la mia testolina tutto andò a farsi benedire e Giosuè che fermò il sole e mia madre che in nome del profeta Elia negava i parafulmini e mio padre indifferente alle verità che io avevo appreso la mia perspicacia mi ispirò come frenetico andavo per la casa per le scuderie predicando le mie verità e non ridendo per l'ignoranza infiammandomi d'odio per tutti coloro che nella luce bianca vedevano solo il bianco del resto tutte queste son bazzecole e bambinate le infatuazioni vere per così dire virili cominciarono in me all'università voi signorina avete in qualche posto ultimato un corso di studi a Novo Cercasca nell'istituto del Don ma corsi universitari ne avete fatti allora non sapete che cosa siano le scienze tutte le scienze quante ce n'è al mondo hanno un solo e medesimo passaporto senza del quale si reputano inconcepibili l'ispirazione alla verità ciascuna di esse perfino una qualunque farmacognosia ma per suo fine non l'utile non la comodità della vita ma la verità cosa singolare quando vi mettete a studiare una qualsiasi scienza prima di tutto vi colpisce il suo principio informatore vi dirò non c'è nulla di più attraente e di più grandioso nulla che tanto sballordisca e avvinca allo spirito umano quanto il principio di qualsiasi scienza fin dalle prime cinque o sei lezioni già vi danno le ali le più luminose speranze già vi par d'essere padrone della verità e io mi diedi alle scienze perdutamente appassionatamente come alla donna amata io ero lo schiavo e fuorché esse non volevo conoscere alcun altro sole giorno e notte senza raddrizzare la schiena studiavo a memoria mi rovinavo a comprare libri piangevo quando sotto i miei occhi gli uomini sfruttavano la scienza a scopi personali ma non mi infatuai a lungo il fatto è che ogni scienza ha un principio ma niente affatto una fine allo stesso modo di una frazione periodica la zoologia ha scoperto 35.000 specie di insetti la chimica annovera 60 corpi semplici se col tempo queste cifre si aggiungeranno a destra 10 zari per ciascuna la zoologia e la chimica saranno altrettanto lontane dalla loro fine come lo sono adesso e tutto il lavoro scientifico contemporaneo consiste appunto in un accrescimento di cifre di tal giochetto mi sono reso conto quando scopersi la specie numero 35.0001 e non mi sentì soddisfatto ebbene non ebbe il tempo di provare una delusione perché ben presto si impossessò di me una nuova fede mi gettai nel nichilismo con i suoi proclami le sue spartizioni nere e ogni sorta di faccende andai al popolo e lavorai nelle fabbriche fra i lubrificatori i tiratori di alzaia poi quando vagabondando per la russia annusai la vita russa mi converti in un ardente adoratore di quella vita amavo il popolo russo fino alla sofferenza amavo il suo dio la sua lingua la sua creazione e credevo in essi e così via via a suo tempo fui slavofilo e infastidì a Xakov con le mie lettere e ucrainofilo e archeologo e raccoglitore di campioni d'arte popolare mi infervorai per idee persone avvenimenti luoghi me ne infervorai senza posa cinque anni fa servivo la causa della negazione della proprietà l'ultima mia fede fu la non resistenza al male Sasha sospirò a balzi e si mosse Mikhailov si alzò e le si fece accosto amichetta mia non vorresti del tè domandò teneramente bevilo tu rispose ruvida la bambina Mikhailov si confuse e con l'andatura ad un colpevole tornò verso la tavola allora siete vissuto allegramente disse la Lovaisky avete qualcosa da ricordare beh sì tutto questo è allegro quando stai a bere il tè con una benigna interlocutrice e chiacchieri ma voi domanderete che cosa mi valse questa allegria che mi costò la varietà della mia esistenza e che io signorina credevo non come un dottore in filosofia tedesco non zirlich manirlich non vivevo in un rumitaggio ma ciascuna mia fede mi riconduceva agli estremi faceva in pezzi il mio corpo giudicate voi stessa io ero ricco come i fratelli ma ora sono un pezzente nell'ebbrezza delle mie infatuazioni dia di fondo e al mio patrimonio e a quello di mia moglie a un mucchio di denari altrui adesso ho 42 anni la vecchiaia è alla porta e io non ho un asilo come un cane che di notte è rimasto addietro al carriaggio in tutta la mia vita non ho saputo che cosa fosse quiete l'anima mia ha languito senza interruzione ha sofferto persino delle sue speranze mi sono consumato in un lavoro improbo disordinato ho patito privazioni un cinque volte sono stato in carcere ho vagato per le province di Arkhangelsk e di Tobosk a rammentare mi fa male sono vissuto ma nei fumi dell'ebbrezza non ho avvertito il procedere stesso della vita lo credete io non mi ricordo di una sola primavera non mi sono accorto di come mi amava mia moglie di come nascevano i miei figli che dirvi ancora per tutti quelli che mi hanno amato io sono stato una sciagura mia madre sono ormai 15 anni che porta il lutto per me e i miei orgogliosi fratelli ai quali toccava per causa mia soffrir nell'intimo arrossire e curvar la schiena buttar via quattrini alla fine mi pregero in odio come un veleno Mikhailov si alzò e tornò a sedere se fossi stato soltanto infelice avrai ringraziato Dio e gli proseguì senza guardare la Lovaisky la mia infelicità personale passai in ultimo piano se rammento quanto spesso nelle mie infatuazioni fui assurdo lontano dalla verità ingiusto crudele pericoloso quanto spesso con tutta l'anima odiai e disprezzato quelli che avrei dovuto amare e viceversa io tradì le mille volte oggi credo mi prosterno e domani fuggo già come un vile ai miei odierni dei ed amici e in silenzio mando giù il farabutto che mi mettono alle calcagne ed io solo vedeva quanto spesso dalla vergogna per le mie infatuazioni piangessi e mordessi il guanciale non una volta nella vita ho deliberatamente mentito ne fatto il male ma non è pulita la mia coscienza signorina io non posso neppur vantarmi di non aver sulla mia coscienza la vita di alcuno giacché sotto i miei stessi occhi è morta mia moglie che io avevo stremato con la mia spensieratezza e mia moglie ascoltate nella nostra convivenza sociale prevalgono ora due atteggiamenti verso le donne gli uni misurano i crani femminili per provare che la donna è inferiore all'uomo cercano i suoi difetti per deriderla posare a originali davanti ai suoi occhi e giustificare la propria animalità gli altri invece cercano con tutte le forze di levare la donna a sé cioè di obbligarle a studiare a memoria le 35.000 specie a dire scrivere le stesse sciocchezze che si dicono e scrivono il viso di Rikareov si oscurò e io vi dirò che la donna sempre fu e sarà la schiava dell'uomo presa a dire con voce di basso dato un colpo col pugno sulla tavola ella è tenera morbida cera con la quale l'uomo rasmò sempre tutto quel che gli garbava signore Dio mio per una futile infatuazione mascolina ella si tagliava i capelli abbandonava la famiglia moriva in terra straniera fra le idee per cui si sacrificava non c'era neppure una femminile una schiava piena di abbregazione e devota crani io non ne ho misurati ma dico questo per una penosa amara esperienza le più orgogliose donne indipendenti se mi riusciva di comunicar loro la mia ispirazione mi veniva indietro senza ragionare senza interrogare e facendo tutto quel che volevo una monellaccia feci una nichilista che come poi sentì sparò a un gendarme mia moglie non mi abbandonava nelle mie peregrinazioni per un solo minuto e come una banderuola cambiava la sua fede parallelamente a come io cambiavo le mie infatuazioni l'ikariov balzò su e si mise a camminare per la stanza nobile sublime schiavitù e gli disse giurrando le mani in essa appunto era chiuso l'alto significato della vita femminile dalla tremenda farrazine accumulatasi nella mia testa durante tutto il tempo dei miei contatti con le donne mi sono rimaste nella memoria come in un filtro non idee non parole intelligenti non una filosofia ma questa straordinaria rassegnazione al destino questa eccezionale misericordia e capacità di perdono vikariov strinse i pugni fissò un punto e con una sorta di appassionata tensione come succhiando ogni parola filtrò tra i denti serrati questa magnanima sopportazione questa fedeltà sino alla morte questa poesia del cuore il senso della vita è appunto in questo martirio senza mormorazioni nelle lacrime che ammolliscono una pietra nell'amore infinito che tutto perdona e porta nel caos della vita luce e calore la lovaeschi lentamente si alzò fece un passo verso l'ikariov e fissò gli occhi nel suo volto dalle lacrime che gli brillavan sulle ciglia dalla voce tremante appassionata dal rossore delle guanze le era chiaro che le donne non erano un casuale né un semplice tema di conversazione esse erano l'oggetto di un suo nuovo infervoramento o come gli stesso diceva di una nuova fede per la prima volta nella vita la lovaeschi vedeva davanti a sé un uomo infervorato che credeva calorosamente esticolando con gli occhi luccicanti egli le pareva folle esaltato ma nel fuoco dei suoi occhi nel discorso nei movimenti di tutto quel grosso corpo si sentiva tanta bellezza che la senza vedersene lei stessa stava davanti a lui come inchiodata e lo guardava statica in volto e prendete mia madre egli diceva tendendo verso di lei le mani e facendo un viso supplichevole io ho avvenenato la sua esistenza disonorato a sua idea la famiglia dei Likaryov che ha giocato lei tanto male quanto può farne il peggior nemico ebbene i fratelli le danno qualche soldino per l'ostie consacrate e i tedeum e lei facendo violenza al suo sentimento religioso raggranella questi soldi e il segreto rimanda al suo traviato Grigori questa sola inezia educherà e nobiliterà un'anima ben più efficacemente di tutte le teorie le parole intelligenti e 35.000 specie io posso portarvi un migliaio di esempi ma ecco prendiamo anche solo voi fuori c'è la tormenta la notte e voi vi recate dal fratello e dal padre per riscaldarli il dì della festa con una carezza sebbene essi forse non pensino a voi vi abbiano dimenticata ma aspettate se amerete un uomo vi andrete dietro al polo nord non è vero che ci andreste sì se amerò ecco vedete si aglietò l'ikarioff e batte perfino col piede in fede mia sono così lieto d'avervi conosciuta ogni giorno faccio una tal conoscenza che per quella persona addirittura l'anima darei in questo mondo di brava gente ce n'è molto più che di cattiva ecco guardate un po' io e voi abbiamo parlato così sinceramente a cuore aperto come se ci conoscessimo da cent'anni certe volte dico io si tenduro per un dieci anni si tace si fanno misteri con gli amici e la moglie poi si incontra in treno un cadetto e gli si spiffera tutto ciò che si ha nell'anima voi ho l'onore di vedervi per la prima volta soltanto e mi sono confessato a voi come non mi ero confessato mai perché questo stropicciandosi le mani e sorridendo gaillamente l'ikariof fece un giro per la stanza e si rimise a parlare delle donne intanto le campane suonarono a mattutino oh signore piagnucolò Siasce coi suoi discorsi non mi lascia dormire ah sì si riprese l'ikariof scusa amichetta dormi dormi oltre a lei ho ancora due ragazzi bisbigliò quelli signorina stanno dallo zio ma questa nemmeno un giorno può vivere senza il padre soffre brontola e si appiccica a me come la mosca al miele io signorina mi sono perduto in chiacchiere ma anche a voi non farebbe male riposare non volete che vi prepari il letto senza aspettare il permesso egli scosse il mantello bagnato di lei e lo distese su una panchia col pelo di sopra raccolse i fazzoletti e gli scialli sparsi mise come capezzale il cappotto arrotolato e tutto ciò in silenzio con un'espressione di reverenza servile sul volto come si maneggasse non degli stracci femminili ma frantumi di vasi sacri per tutta la sua figura sarà qualcosa di colpevole di impacciato quasi che in presenza di un essere debole egli si vergognasse della sua statura e della sua forza quando la Lovalski si coricò egli spense la candela e sedette su uno sgabello accanto alla stufa proprio così signorina mi sbigliava accendendo una grossa sigaretta e mandando il fumo nella stufa la natura ha posto nel russo una straordinaria capacità di credere una mente indagatrice e il dono del pensiero ma tutto questo si infrange e va in polvere contro la non curanza la pigrizia e la spensieratezza sognatrice si signora la Lovalski meravigliata figgeva lo sguardo nel buio e vedeva soltanto una chiazza rossa sull'immagine e il balenio della luce della stufa sul viso di Likaryov la tenebra lo scampanio l'urlo della bufera il ragazzo zoppo sascia che brontolava l'infelice Rikaryov e i suoi discorsi tutto ciò si mescolava cresceva diventando una sola enorme impressione e il creato le pareva fantastico pieno di prodigi e di forze incantatrici tutto quello che di ansia aveva udito risuonava nei suoi orecchi e la vita umana che si presentava come una bellissima poetica fiaba che non aveva fine l'enorme impressione crebbe e crebbe tracinò con sé la coscienza e si convertì in un dolce sonno la Lovaisky dormiva ma vedeva il lumino e il grosso naso su cui saltellava una luce rossa e la sentiva un pianto caro babbo supplicava teneramente una voce infantile torniamo dallo zio là c'è l'albero di Natale là ci sono stepa e colie amichetta mia che ci posso fare la esortava una sommessa voce di basso maschile capiscimi su via capisci e al pianto infantile si unì quello dell'uomo questa voce di umano dolore in mezzo all'urlio del maltempo sfiorò l'udito della fanciulla come una musica umana così dolce che la non resse a quella delizia e si mise pure a piangere sentì poi come una grande ombra nera si avvicinò a lei in silenzio la cattò da terra lo scialle caduto e gli inavviluppò i piedi destò la Lovaisky uno strano schiamazzo e la balzò su e guardò stupita intorno a sé dalle finestre costruite a metà dalla neve occhieggiava il turchino dell'alba nella stanza c'era un grigiore crepuscolare attraverso il quale chiaramente si disegnavano e la stufa e la bambina dormente e Nasreddin la stufa e il lumino già si erano spenti dall'uscio spalancato si vedeva l'ampia stanza dell'osteria col banco e le tavole un uomo dalla faccia ottusa di zingaro e dagli occhi pieni di meraviglia stava in mezzo alla stanza in una pozza di neve sgelata e teneva in cima un bastone una grande stella rossa lo attorniava una folla di monelli immobili come statue e coperti di neve la luce della stella attraversando la carta rossa imporporava i loro visi bagnati la folla schiamazzava disordinatamente e del suo clamore da Lovaisky intese solo una strofetta ehi piccol gardoncello prendi il sottile coltello ammazzare l'ebreo e il figlio dolente accanto al banco stava in piedi di Kariov guardando intenerito i cantori e battendo il ritmo col piede vedendo da Lovaisky sorrise con tutto il volto e le si accostò e la pura sorrise buona festa e gli disse ho visto che avete ben dormito e Lovaisky lo guardava taceva e continuava a sorridere dopo i discorsi della notte e gli più non le sembrava alto né largo di spalle ma piccolo analogamente a come ci sembra piccolo il più grosso dei piroscafi di cui ci dicono che ha barcato l'oceano beh per me è tempo di andare e la disse bisogna vestirsi dite dove vi dirigete adesso io alla stazione di Klunuska e di là a Sergeyevo e da Sergeyevo facendo 40 verste coi cavalli alle miniere di carbone ed uno scemo d'un certo generale Shaskovski là i fratelli mi hanno trovato un posto di direttore e strarrò carbone permettete io quelle miniere le conosco infatti Shaskovski è mio zio ma perché andate là domandò l'Alovarski squadrando meravigliata l'Ikaryov come direttore a dirigere le miniere non capisco si strinse nelle spalle l'Alovarski voi andate alle miniere ma la sapete è steppa luda deserto una noia tale che non ci resterete un sol giorno un carbone orribile nessuno lo compra e mio zio è un maniaco un despota un fallito non riceverete neppure lo stipendio fa lo stesso disse indifferente l'Ikaryov un grazie anche per le miniere l'Alovarski alzò le spalle e si mise agitata a camminare per la stanza non capisco non capisco diceva muovendo le dita davanti al proprio volto è una cosa impossibile e è irragionevole capitela quello è peggio di un esilio è la tomba per un uomo vivo ah signore disse con calore accostandosi a l'Ikaryov e muovendo le dita davanti al viso sorridente di lui il labbro di sopra le tremava e il suo volto aguzzo era impallidito beh figuratevi una steppa nuda l'isolamento là non c'è uno con cui dire una parola e voi e voi siete infatuato per le donne le miniere e le donne l'Alovarski tutt'antratto si vergognò della sua foga e voltate le spalle a l'Ikaryov andò verso la finestra no no la non potete andare disse passando rapida il dito sul vetro non solo con l'anima ma perfino col dorso e la sentiva che dietro a lei stava un uomo infinitamente disgraziato perduto ed ereditto e lui come inconsapevole della propria sventura come se non avesse pianto la notte la guardava e sorrideva buonariamente meglio avrebbe fatto continuando a piangere più volte e la percorsa agitata alla stanza poi si fermò in un angolo e si fece pensosa l'Ikaryov diceva qualcosa ma lei non lo sentiva voltatagli la schiena cavò fuori dal portamonete un biglietto da venticinque lo strazzonò a lungo fra le mani poi voltatasi a guardare l'Ikaryov arrossì e si ficcò il biglietto in tasca dietro l'uscio si udì la voce del cocchiere l'Alovaisky in silenzio con un viso severo riconcentrato prese a vestirsi l'Ikaryov la imbaccucava ciclando gaillamente ma ogni sua parola le si deponeva sull'anima come un peso non è cosa allegra ascoltare quando cegliano dei disgraziati e dei morenti quando fu ultimata la trasformazione di una persona vivente in un fagotto in forme l'Alovaisky guardò in giro per l'ultima volta la passezzera sostò un momento in silenzio e uscì lentamente l'Ikaryov andò ad accompagnarla e fuori tuttora dio sa perché infieriva l'inverno intere nuvole di glossa soffice neve turbinavano inquiete sopra la terra e non si trovavano un posto cavalli slitta alberi un toro legato a un paio tutto era bianco e pareva morbido fioccoso beh dio vi assista mormorava l'Ikaryov facendo sedere l'Alovaisky nella slitta non serbate un cattivo ricordo l'Alovaisky taceva quando l'Alovaisky si mosse e cominciò a girare attorno a un grosso mucchio di neve e la si volse a guardare l'Ikaryov con un'espressione come se volesse dirgli qualcosa quello corse verso di lei ma ella non gli disse nemmeno una parola e lo guardò soltanto attraverso le lunghe ciglia su cui pendevano minuzzoli di neve o che in realtà l'anima sensibile di lui avesse saputo leggere in quello sguardo o che forse l'avesse ingannato l'immaginazione fatto è che di colpo prese a parergli che ancora due o tre buoni veicolosi tratti e quella fanciulla gli avrebbe perdonato i suoi scacchi la vecchiaia la disdetta e gli sarebbe andata dietro senza far domande senza ragionare a lungo sostò come inchiodato guardando la traccia lasciata dagli strisci i fiocchi di neve gli si posavano avidamente sui capelli la barba le spalle ben presto la traccia degli strisci scomparve e degli stesso coperto di neve cominciò a somigliare a uno scoglio bianco ma i suoi occhi tuttora cercavano qualcosa tra i nembi di neve grazie a tutti